ciao ragazze bentornate sul mio canale oggi un nuovo video spacchettamento ma prima vi invito ad iscrivervi al canale e attraverso la campanella giù nell'info box troverete come sempre tutte le informazioni per quanto riguarda i miei social per quanto riguarda amon se vi va giù trovate tutte le informazioni per quanto riguarda avon se vi volete scrivere avon se volete diventare consulenti poi se volete avere qualche consiglio me lo scrivete giù nell'info box o comunque tra le mie informazioni del canale troverete la mia email dove potrete mandarmi anche un email se vi fa più comodo e se vi fa più piacere insomma o per questo discorso di avon o per qualsiasi altra situazione insomma iniziamo ad aprire il pacco questa volta il cliente hanno fatto un veramente un bell'ordine bello sostanzioso qualcuno ha già provveduto per qualche regalo di natale quindi hanno approfittato e andiamo a vedere cosa hanno preso un po complicato ad aprire ed ecco tutti i prodotti che adesso andiamo a vederli insieme allora vediamo iniziamo con un body lotion della linea avon care della colorazione fiori penso jasmine e glice e glicerina fatto in questo modo qui davvero molto bello anche il per questo rosa che mette allegria bello bello poi mi hanno ordinato uno shampoo dovrebbe essere uno shower gel un atto shower gel questo è per della linea per i bambini e ed è un appunto uno shower gel troppo troppo carino anche specchio di questo prodotto fino qui poi mi hanno ordinato un bagno schiuma nella profumazione coco newt ettiaree flower scent questo qua che è una delle profumazioni che io adoro poi mi hanno ordinato poi mi hanno ordinato il profumo nuovo il faraway nuovo che è uscito da poco e insieme al profumo si riceve anche la busta regalo molto molto bella devo dire poi vabbè qui ci sono i cataloghi che ho preso per la nuova campagna di dicembre eccoli qua li ho presi un po poi mi hanno messo altri cataloghi questi qua per la guida ai regali poi mi hanno ordinato due deodoranti a roll on da donna nella profumazione penso invisible penso che questo sia che vada bene sia per i capi bianchi che per i capi neri che non macchia e active poi poi mi hanno ordinato due creme una da giorno e una da notte con spf 30 ed infine mi hanno ordinato un eau de toilette da uomo di questo di questa profumazione green funger che si chiama non lo so vedete qui insomma il 9 e questo è tutto l'ordine che mi hanno ordinato i miei clienti beh devo dire che un bell'ordine davvero un bell'ordine voglio guardare un attimo un po il catalogo che questo sarà per dicembre che valida che valido dal primo dicembre al 30 dicembre questa è la copertina bella e ovviamente come sempre io andrò a dare un'occhiatina che belle queste palette occhi belle e poi vediamo io sono curiosa come una bambina quindi me lo devo sbirciare per benino vedo 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 vediamo se sia una novità questa che uscirà a dicembre e saranno dei gel doccia creamy fantasy essence bagno schiuma crema fantasy sense voglio sentire un po la profumazione è buonissima mmm sembra caramello e infatti c'è scritto caramello mandorle vaniglia sembra il tuo dessert preferito ma si tratta delle nostre delizie da bagno e doccia scopri la nostra dolcissima collezione che bella questa sicuramente qualcosa prenderò perché io adoro il caramello il cocco e la vaniglia sono tre fragranze che secondo me messe insieme sono straordinarie e poi qui ci sarà anche un'altra novità questo set regalo che comprende per lei che comprende eruzione corpo e profumo bella anche la confezione bella bella quindi ragazzi è questo è tutto l'ordine che mi hanno fatto le mie clienti per novembre io vi ricordo che giù trovate tutte le informazioni per quanto riguarda avon i miei link per quanto riguarda anche altre scontistiche varie e vari siti spero di avervi fatto comunque un po di compagnia e noi se volete ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio e alla prossima ciao ragazze grazie a tutti grazie a tutti